E' iniziato così il 2017 con gli auguri del sindaco del comune della città metropolitana di Napoli Luigi De Magistris ai 160.000 che stanotte hanno gremito Piazza del Plebiscito e a tutti i napoletani Buon anno alla nostra amatissima città Buon anno a voi che avete organizzato questa serata bruttissima Buon anno a questa piazza straordinaria che è un'ombra umana senza fine Buon anno ai napoletani, ai tantissimi turisti che sono sempre più ruttosi Buon anno a tutti gli abitanti della nostra città Città di Fugio e Città di Pella Davvero una serata fantastica in Piazza Plebiscito Tantissima gente, tanta bella musica, tanta allegria, tanta voglia di essere qui mescolarsi tra la gente, vivere un fine anno straordinario per un 2017 pieno di emozioni, pieno d'amore e di felicità veramente siamo orgogliosi di quanto si è costruito in questo Lunga 16 e questa serata fantastica Buon anno a tutti Sull'inedito palco, 200 metri quadrati di led con 250 teste mobili progettato dallo scenografo Riccardo Bocchini noto per i suoi lavori al Festival di Sanremo e dal direttore della fotografia Marco Lucarelli è stata la musica degli stadio, di Tiro Mancino, di Valerio Iovine del re Pernolano Clementino a far cantare, ballare, emozionare quanti hanno voluto festeggiare così mescolandosi alla folla che ha invaso la piazza all'inizio del nuovo anno Allora tantissimi auguri alla Campania e alla città di Napoli da Clementino si dice spacca Napoli io direi questa sera sparta Napoli perché spaccamo proprio il vetrino vai Spero che la città possa potersi vivere e continuare a crescere in questa sua rinascita perché io stasera già dalle prime immagini che ho visto nella piazza vedo una città viva ed è la mia città Napoli è una città che sta piano piano rifiorendo insomma che ogni volta che ci si viene l'energia che si respira è sempre più bella i napoletani sono un grande popolo un popolo di cuore che ama la musica, che ama l'arte che comunque è molto caloroso e questa devo dire che non è una cosa che accade ovunque perciò anche per noi festeggiare il Capodanno su una piazza così piena proprio di sentimento è una cosa molto bella auguri giungono anche dal vice sindaco della città metropolitana David Lebro oggi è una giornata meravigliosa Napoli è piena di turismo è piena di ospiti stranieri e italiani è un momento fantastico per la nostra città metropolitana in questo momento le nostre isole i nostri usi turistici Sorrento, Fonzoli sono pieni, pieni, pieni strapieni di turisti è un ottimo auspicio mi auguro che il 2017 sia profitto dal punto di vista del lavoro della città metropolitana e che possiamo sempre aiutare di più ai nostri cittadini che devono tornare sempre di più a creare la politica Napoli tanti auguri grazie di tutto è un'organizzazione milanese quasi direi però con il calore di Napoli i festeggiamenti sono poi continuati sul lungomare dove un autentico fiume umano si stimano in tutto 500.000 persone si è riversato per ballare sui ritmi diffusi dai 5 spazi musicali risposti lungo il percorso pedonale trasformato nella discoteca all'aperto più grande d'Europa e per assistere ai fuchi d'artificio che hanno rischiarato la notte sulla magia del Castel dell'Ovo che ha salutato così, alla sua maniera napoletani e turisti che hanno potuto aspettare l'alba di un nuovo anno dalle terrazze di Nalbero la struttura luminosa alta 40 metri installata alla rotonda Diaz tra la città e il mare perché il Capodanno a Napoli, si sa è sempre un'emozione da vivere insieme e il Capodanno a Napoli